Sam lo slime ha organizzato un tea party per la sua Barbie preferita. Sembra tutto perfetto. E ha pensato a tutto. Signora, è bellissima. Che carino! Barbie è una ragazza fortunata e il nostro Sam è un vero gentiluomo. Lasciate che vi aiuti, per favore. Che ne dite di una tazza di Earl Grey? Wow! Lei posso offrire qualcosa da mangiare? Ehi, Sam, ho qualcosa per te. Una sorpresa! Fammela vedere! Volevo fare un regalo al mio slime preferito. Un nuovo tablet, grazie! So già quale gioco scaricare. Sam abbandonerà Barbie adesso? Ma è successa una cosa inaspettata! La bambola è viva! Ups, diventare un essere umano non è facile, ma Barbie non si arrende. Andiamo! Questa stanza è molto strana. Dov'è Sam? Ecco qui, sta giocando e non ha la minima idea di quello che è successo. Che noia! Mentre Sam è immerso nella partita, Barbie ha del lavoro da fare. Cosa c'è di meglio che decorare e arredare una stanza? Wow! Sam dice sempre che il rosa non è mai abbastanza, quindi neanche Barbie si fermerà. Libri? Via, i fiori sono meglio! Cosa dovrebbe fare adesso? È una scelta complicata? Ah, ecco che arriva la bacchetta magica! Incredibile! Ah sì, così è molto meglio! Il tavolo è stato trasformato in un puff. Bello, proprio come nella casa dei sogni di Barbie. Dei banali cuscini diventano dei fantastici cuscini rosa. Nessuno può fermarla. È nel pieno della sua attività. Scansione in corso. Quei poster devono sparire. Ho fatto tutto! Wow! Sam sa sempre come rallegrare la sua Barbie e adesso lei dovrà farlo da sola. Scommetto che ha già qualcosa in mente. Ehi, attenzione a sinistra! Lo copro io, ok? Con calma. Non se ne è neanche accorto. Preso, andiamo! È il momento di mischiare un po' le carte. Addio, tende! Il tessuto rosa è perfetto per l'idea di Barbie, se solo Sam sapesse. Un gigantesco cuscino a forma di fiocco sarà perfetto per il suo letto. Colore migliore? Rosa senza dubbio. Bisogna cucire i lati anteriore e posteriore. Lasciare poi un piccolo buco e rovesciarlo. Sta nevicando? È il cotone che servirà a riempire il cuscino. Ecco qui. Così soffice con questo Barbie farà sicuramente sogni d'oro. Buonanotte a me. Mi piacciono i vestiti delle celebrità. Anche io ne voglio uno così. Barbie, ma tu hai già un sacco di vestiti. Che forse si sono un po' ristretti. Ah, qualcuno è venuta a un'idea, eh? Controlliamo il guardaroba di Susie. Tutto qui. È tutto così semplice. È un po' banale. Peccato. Oh no, rimettilo a posto. Ehi! Va bene, ma prendi solo questa. Il bianco da solo non va bene. Prendiamo dei colori per tessuti. Voilà! Il rosa è il nuovo nero. O il nuovo bianco. Non importa. Liberiamo l'artista che è in noi. Wow! Gli strass colorati fanno molto stile Barbie, vero? Oh, sono brillantini! Grazie, è giusto in tempo. Barbie, ti piaceranno senz'altro. Siamo pronti per la prova? Wow! Per me è un pollice in su. Dov'è il mio principe? Sono pronta per il ballo. Sammy, ma quando arrivi? Che noia! Oh? È scomparsa anche la palla? Non è giusto! Sono rimasta sola! Oh, ma certo! Puoi chiamare le amiche! Eccovi qui, ragazze! È da tanto che non ci vediamo! Che ne dite di un bel tè tutto insieme? Ops, misura sbagliata! Pensa, Barbie, pensa! Non riescono a raggiungere il tavolo, vedi? Neanche il servizio da tè è della misura giusta. Ma Barbie ha un piano. Tagliamo una sezione a forma di cerchio dal cartoncino espanso. La forma perfetta per un tavolo perfetto. Queste sono le gambe, giusto in tempo. Attacchiamole, su! Fatto! Ecco che cosa abbiamo ottenuto bello! Le sedie in schiuma sono abbastanza facili da fare. Assembliamo la sedia e poi la coloriamo. Tutto in rosa, senza dubbio! Ups, sta per finire tutta la vernice! Benissimo! Dipingiamo le gambe delle sedie in blu, allora. Wow! Sembra quasi che dobbiamo aprire un mobilificio. Ora andiamo a prendere il nostro tè. Tutto è pronto come dovrebbe essere. Brava, Barbie! Alla salute, ragazzi! La parte più eccitante è la condivisione dei pettegolezzi. È sempre così divertente, Sammy. Unisciti a noi! Sam, l'invincibile è qui! Oh, Sammy, quando giocheremo insieme? Che cos'è? Ok, non questo, non questo. Oh, carte e pennarelli! Che sta facendo adesso? Sam adorerà ricevere lettere dagli amici. Gli scriverò. O forse è meglio fare un disegno di noi due. L'adorerà. Oh, è così carino. Vediamo che ci serve adesso. Una busta. Presa. Basta chiuderla e spedirla. Sì! Oh, mio Dio! Ho perso! Non è possibile! Non mi hai mai visto così arrabbiato! Ma Barbie non si arrenderà. Invieresti questo per me? La mando subito. Toc toc, c'è posta per te. Eh, togliela! O perderò la partita! L'ha lanciata per terra! Sei davvero cattivo, Sammy! Riproviamo, dai, Sam! È ora della merenda! Ok, Barbie. Meglio strappare questa lettera. Oh, se Sam non vuole giocare, Barbie si scatenerà. Avanti, mio esercito di peluche. È ora di passare all'attacco! Accidenti, è un lato di Barbie che non conoscevo. Ecco fatto! Le luci si sono spente! Non ho salvato la partita! Che è successo? Chi è stato? Sessu lo viene a sapere! Sammy, stai bene? Oh, santo cielo, che è successo qui? Stavo giocando e poi, boom, la luce è andata via. Poi, quando è tornata, ho visto questo disordine. Stai cercando di ingannarmi? Non è possibile, rimetti tutto in ordine. E niente tablet per una settimana. Ma non è colpa mia, Susy! Per favore, Sammy, smettila di assillarmi. Per favore! Bene? C'è cosa è il caso di ingannare? Grazie a tutti. Grazie a tutti.